Ciao a tutti, questo è il video conclusivo di questa serie, di questo viaggio nelle tastiere. Abbiamo visto gli anni 70, 80, 90, gli anni 2000, oggi parliamo del 2010, ma parliamo anche dei giorni nostri, perché mi sembrava doveroso concludere. Siamo neanche a metà di questo decennio, degli anni 20, di questo millennio, però possono succedere delle cose interessanti. Allora, prima di parlarne, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere la giornata, e fare commenti, sempre con educazione e gentilezza, proposte e quant'altro, mettere un mi piace alla fine del video, se vi è piaciuto. Vi ricordo il mio canale Patreon, dove potete sostenere il mio lavoro, avere in cambio molte più cose, un contatto più diretto con me, video richiesta, uno spazio che se usato a dovere vi può dare veramente tanto, materiale che non vedrete mai qui su YouTube, PDF, tutorial, suoni e quant'altro, e per il livello pro c'è una lezione online, collettiva, in diretta con me, una volta al mese, quindi tanta tanta roba, e ci saranno a breve anche sconti per gli iscritti a Patreon, gli iscritti paganti, per i miei sostenitori ci sarà appunto uno sconto sui corsi che saranno pubblicati a breve. Se invece siete interessati a lezioni online, quindi sul pianoforte tastiere, o su tutti gli argomenti un po' più tecnologici, quindi synth software, creazione di suoni, eccetera, eccetera, scrivete ad info.paologambino.com. Dagli anni 2010, secondo me, succedono delle cose un po' strane, nel senso che sicuramente tutto il mercato delle workstation, secondo me, inizia un po' a vacillare, però ci sono degli interventi, dei confronti interessanti su tutto il mondo software, iniziano anche a beneficiare di queste cose, faccio un esempio di Korg Kronos, che ha tutto il sistema operativo su SSD, a questo punto qua le workstation devono fare i conti su tutte le possibilità enormi offerte dalle situazioni basate su computer, quindi insomma iniziano ad aumentare le dotazioni di base di campioni, quindi c'è un, come dire, un qualcosa di interessante sotto questo aspetto qui, ma soprattutto poi nascono invece dei software per permettere di utilizzare dal vivo i plug-in, che sembrano una cosa molto interessante appunto all'epoca, quindi main stage in primis di Apple, ma anche altre software in ambito Windows, mi ricordo di Cantabile, poi mi sembra di Forte, adesso non voglio parlare di cose che non conosco bene, però appunto nascono strumenti come il Muse Receptor, che è appunto un REC basato su Linux, anche lui è in grado di far suonare degli strumenti virtuali, in Italia c'è Audio Station, un prodotto molto interessante, anche qua basato su appunto un REC, anche qua con lo stesso principio di Muse Receptor, insomma sui palchi compaiono appunto anche i computer per questi virtuali instruments, ne ho parlato in un mio video della mia esperienza che risale ormai più di vent'anni fa e con i virtuali, insomma tutti i vari sistemi, sapete quanto io sia un fan di queste soluzioni e non cambio idea nella maniera più assoluta, la comodità è innegabile, e poi ci sono come sempre soluzioni e soluzioni, come sempre poi le soluzioni sono quelle che soddisfano le nostre esigenze, quindi le mie sono di un certo tipo, quelle di un altro musicista sono altre, proprio in contesto in cui ci troviamo a suonare, a volte anch'io preferisco avere gli strumenti hardware, dipende, come sempre, però sicuramente quella è una cosa molto 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 interessante, molto molto potente, cito sempre l'esempio di David Page e Steve Forkara dei Toto, che sì avevano due tastiere Yamaha, a me erano entrambe collegate a un sistema Mainstage, i suoni venivano solo da Mainstage, cito David Rosenthal, tastierista di Billy Joel da tanti anni, anche lui un sistema, per quanto anche con le tastiere fisiche, ma tutto basato su Mainstage, quindi tutti i suoni vengono da Mainstage, tranne un clone Hammond, un XK3C, cito ancora Mark Kelly dei Merillion, insomma tante persone si convertono a queste soluzioni qua. Come dire, è una cosa molto interessante e arriviamo un pochino ai giorni nostri, dal computer adesso si sta passando ai sistemi ancora più piccoli, vi ho già citato più di volte le soluzioni basate su iPad, che secondo me sono molto interessanti e verosimilmente dove andrà il futuro, anche nascono anche strumenti particolari, adesso c'è il discorso del MIDI 2.0, quindi la MIDI Polyphonic Expression, quella di Rolly Seaboard, ne avevo parlato in un mio vecchissimo video, adesso anche di tanti altri strumenti molto interessanti, che sono forse la cosa più nuova che possiamo trovare come tipo d'approccio, magari non la cosa per tutti i giorni, delle cose un po' particolari, però sicuramente molto molto interessanti. Spero che questo viaggio che sicuramente è incompleto, anzi se avete cose per completarlo scrivetelo, però ho cercato di condividere quello che mi è venuto in mente. Un abbraccio a tutti, a presto, ciao!